Non so se avete sentito la mia voce, se non l'avete sentito lo ripeto, in questa parte andremo a registrare, sono un idiota, a vedere se riusciamo a creare dei libri, interrompendo per un attimo la nostra bellissima creazione del nostro piano sopra per le colture no, no cosa cazzo sto facendo, sono qua, quindi dovrebbero essere una qui, farina, è vero fanno anche la farina, perfetto, ne avremo tre stack, forse, com'è, ma c'era un tasto che te le prendeva tutte, ce n'era uno, ma non me lo ricordo, non mi ricordo quale tasto fosse, poi dovrebbero avanzarne tre da questo stack, infatti, che facciamo, infatti andiamo così, perfetto, poi adesso le pagine, non mi ricordo come, non ho la minima idea di come si crafti, però andando di logica, con della pelle, non ne ho la minima idea, io ve l'ho detto, andrò a caso, perché mi pare, mi pare che ce ne vadano, uno qui, uno qui, uno qui, e così si crei, sì, un libro, 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 sono un genio, sono il vostro nuovo dio, veramente, non è vero, sono un idiota, e in questo modo abbiamo 14 libri, che messi per così, ovviamente, faranno una, no, emessi, e com'è che si faceva già la libreria, non lo so, non ne ho la minima idea di come si faccia una libreria, no, no, perché, beh, prendiamo le assi del regno della giungla che non userò perché mi piacciono, è la giungla assai lontana, quindi proviamo a mettere questo, uno così di tutto, con, no, non c'è questo in mezzo, non fa niente, e una cosa così, così, e i fogli di carta sto andando a caso, ah no, con i libri, sono un idiota, ecco perché non va, così, so, sono un dio, che, no, vado, come, l'arte dell'andare a caso all'ennesima potenza, ma, ora venitemi a dire che non sono un grande, dai, e, nessuno avrebbe potuto inventarsi un crafting e farlo divenire giusto, sono veramente soddisfatto di me stesso, ora, prendiamo 14, eh, quindi, prendiamone 4, no, ho fatto un calcolo totalmente di merda, perché è sbagliato, perché devo metterne di più, ma pazienza, sono un idiota, lo so, perché devo fare queste, quindi non basteranno mai, ma pazienza, voi mi conoscete, non, no, vediamo, noi mettiamo un altro lì, e qua ne mettiamo un altro, quindi abbiamo fatto già due librerie, bello però, mi piace, perché con le librerie potremmo fare gli incantesi, quindi prendiamoci altri due, se non erro, e non dovrei errare, ma tanto so che errarò di sicuro, ok, sono qua gli altri, e andiamo a costruirci le nostre belle librerie, non chiedetemi perché sto facendo ciò, perché non lo so, gli ho detto metà, ma perché, ok, su, no, 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 non ci casco, eh, non ci casco, sì, ho fatto una stronzata, lo so, no, è vero, sono un idiota, perché va anche così, ok, 8, fa 12, e 12 ovviamente non viene perché ne mancano 4, e poi comunque 8 libri, cosa cazzo sto facendo, cosa cazzo sto dicendo, 6, ok, e 3 libri, ok, perfetto, e abbiamo un'altra libreria in questo modo, io adesso me ne vado a depositare un attimo, e con l'encente in tablet, una cosa che non ho mai, ma vi dico mai proprio, mai usato, che però, non so, mi ricordavo, le librerie, non sapevo, ho buttato tutto a caso, crafting, tutto, 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 non sapevo come si facesse niente, sapevo che servivano per arrivarci, ma, dopo tutto, ora ditemi che non sono intelligente, no, non lo so, non sono un idiota, però, ho fatto una cosa epica, quindi dovremmo procurarci una quantità enorme di pelle, però, notavo che questa massa qua in forme, scurisce tantissimo, e quindi dovremmo, cosa state facendo la mucca? vi uccido, allora, prima di tutto vi faccio accoppiare 2 a 2, e poi ne uccido 2 di voi, così per rimanere sempre a 4, quindi, dammi 2 di grano, 4 di grano, volevo dire, 1, 2, 3, 4, no, 4, e andiamo a fargli accoppiare, quelle mucche in calore, dai, non lo sono ancora, ma presto lo saranno, allora, amorini, tu, 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 vai con tu, e tu, vai con, no, non una cosa 3, ah, ok, e ora, dove sei, sei tu, perfetto, e anche te, perfetto, ci siamo fatti 4 bistecche e neanche una fetta di carne, manca un cucciolo, dov'è, si, no, ho ucciso un cucciolo, no, come ho ucciso un cucciolo, ah no, meno male lì, perché devono essere sempre 4 in modo che possa riprodursi, mi ha dato della pelle, una, dovrò andare a sterminare qualche mucca, eh sì, ma almeno così potremo farci un altro libro, quindi con, non ho niente, questo episodio ho fatto assolutamente quello che altri fanno in 5 minuti, io ci ho messo un episodio, 3, non 4, 1, 2, 3, e poi con questi, non facciamo niente, ma pazienza, questa baracca la renderemo al suolo, è una ciofeca proprio, una tugurio, e qua, quanti libri abbiamo? Perché se ne abbiamo 2, è perfetto, con 6, quindi, ah ce l'avevo qua a legno, fanculo, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, perfetto, ci andiamo a fare un'altra cosa di libri, perché? No, non dirmi, non ho depositato no, cosa sai, libri, ok, non giusto, adesso qua sotto è sempre notte però, è brutto, tanto ci sarà solo la casa qua sotto, non è che mi cambierà molto però, è bello avere un po' di luce, libreria, ciao, va intanto vi faccio vedere, vi semino anche un'altra zucca, mi era andato a morire il mouse, andiamo a, ok, ce l'ho ancora il coso, e andiamo a piantare, ok, blocco di terra, blande blocco, guarda che bello il tramonto, oh bellissimo, stupendo, adesso orde di mob arriveranno per ucciderci, ma noi non ci facciamo, si ok, però le zucche sono totalmente inutili, io voglio i meloni, voglio i meloni, ma faremo anche le torte poi, eh, voi per il momento andate qua, poi andrò a depositarvi da una parte migliore, e quindi direi che per questa parte, eh, sì, sono, sono morto altre due volte, e quindi, ciao e al prossimo episodio che spero sia un po' più lungo, e più utile dove fare più cose, ciao!